C'è uno che sta dentro a un pub a sedano tavolo con una birra davanti. Dopo qualche minuto entra l'amico suo, come lo vede, gli leva la birra via e se la beve tutta. Come se la beve, quello schioppa a piangere. Gli ha detto, e che se la piangere per una birra? E quello gli fa, no, è che oggi è il peggio giorno della vita mia. Quello gli fa, ma perché? Che ti è successo? Stamattina stacco dal lavoro, torno a casa a mezzogiorno e trovo mia moglie con altro, porco due. Mi arriva una telefonata, era il capo ufficio, mi hanno licenziato. Nel frattempo mia moglie è scappata da casa amante e mi ha svuotato pure il conto corrente. Ho detto, per me la vita non c'ha più senso, mi suicido. Che faccio? Pio una corda, la rotolo su un trape, vado per un piccam e se stucca la corda. Pio la pistola dal cassetto, me la metto in bocca e sparo se inceppa la pistola. Scendo, ho detto, me butto sui binari, me sdraio sui binari, me dicono che c'è stato un sciopero di treni. E che cazzo? Mi erano rimasti solo due euro. Me compro una bustina di veleno, me la metto nella birra, agli detto la bevi. Vuol dire che poi poi ci devo morire.